Il calcio mercato si chiude lunedì prossimo. I tifosi chiedono rinforzi nei diversi reparti, soprattutto in attacco, dove si deve anche fare i conti con l'infortunio di Felice Vacuo, che lo porterà ad un'operazione al gomito. Allora, ecco che ieri all'allenamento allo stadio provinciale, insieme ai suoi nuovi compagni, c'era Stefano Pettinari. Stamattina l'ufficialità, l'attaccante del Lecce, classe 92, arriva in maglia granata con la formula del prestito con diritto di opzione. Parto con entusiasmo e tanta voglia di ricominciare, ha detto l'attaccante del Trapani, darò tutto quello che posso per la causa e per raggiungere al più presto i nostri obiettivi. So che c'è tanto entusiasmo ed è quello che cercavo. Un giocatore d'esperienza che ha già affrontato diverse volte questo campionato. Ci sono ancora sette giorni, compreso oggi, per permettere al DS Rubino di portare a termine le diverse trattative in essere. Nei desideri granata c'era anche Ceravolo, che però si è accasato alla Cremonese. Intanto il centrocampista Francesco Corapi, infortunatosi l'ultimo giorno di ritiro in Trentino, ieri è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La prossima settimana, su sua espressa volontà, il giocatore tornerà a Trapani, ovviamente non in campo, ma per stare vicino ai suoi compagni. Per tornare al campionato, archiviamo la sconfitta di Ascoli con le parole dell'autore della rete Granata, Daniele Ferretti. Ho visto che la palla usciva al limite dell'aria, mi sono inserito tra le linee, non sono andato in fuorigioco, quindi è andata bene e poi l'ho piazzata sotto la traversa. Penso che comunque è più merito nostro che demerito degli avversari. Comunque questo gol non è valso a nulla perché abbiamo fatto un gran secondo tempo e c'è da cancellare gli ultimi sette minuti su quelle due disattenzioni che abbiamo preso quei due gol. Perché nel secondo tempo abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo fatto gol, siamo stati pericolosi, è un peccato. Però comunque sia riconosciamo il valore dell'avversario perché l'Ascoli è un'ottima squadra e dobbiamo ripartire velocemente, correggere gli errori e continuare a pedalare come stiamo facendo. Dobbiamo ripartire velocemente perché già da sabato abbiamo una partita in casa col Venezia e quindi ci dobbiamo far trovare pronti. Sì, magari oggi è mancato anche quello, l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro in porta, però lo sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo lavorare. Quindi ripartiamo da questo buon secondo tempo che abbiamo fatto.